T'ho l'amore perché possa... Sì, bellissima. Questa esterna mi è rimasta proprio nel cuore. Nel cuore? Sì. Ti emozioni tantissimo. Pensavo che servivano me le pozzolette, invece no. Cosa ti fa emozionare? È tutto, no? Si è partito che ero tipo l'uomo d'acciaio, e per la fine sono diventato l'uomo di burro. Però è stato bello, intenso. Non vivevo comunque queste emozioni di così da anni. Poi c'è da dire che è davvero tutto amplificato, eh. Viverlo proprio. Sì. Sono sempre stata la persona che schiva i sentimenti per paura, però per una volta mi sono lasciata andare, infatti si vede. Che bello. State vivendo un momento magico, possiamo dire. Sì, sì. Eppure tu prima hai sofferto tantissimo. Purtroppo sì. Perché appunto tu hai vissuto una storia d'amore terribile. Ti va di raccontare cosa ti è successo? In realtà, ora, brevemente penso di essermi innamorata della persona sbagliata. Ero entrata proprio in un loop in cui non riuscivo ad uscire. Ero entrata proprio innamorata della persona sbagliata. Grazie a tutti.